Ciao a tutti, io sono Marco, questo è un talk sull'acquisizione forense di contenuti web. Io lavoro in Synaptic, che è un'azienda che si occupa di digital forensic e incident response esclusivamente. Innanzitutto perché? Perché dobbiamo poter acquisire prove web o prove da internet o prove dal cloud in maniera certa. Un po' di statistiche, perché semplicemente i casi che ci richiedono questa attività sono in costante aumento. Parliamo ad esempio di diffamazione, tutte queste statistiche sono nella comunità europea, non in Italia. Quindi vediamo statistiche in aumento di diffamazione online, di IPR infringement online, di illegal content, parliamo di pedopornografia, questa è un'impennata del 20% annuo, giusto per dire, più tutte le altre tipologie. Ma non soltanto, non basiamoci solo sulle statistiche, ragioniamo su due cose. Innanzitutto la pervasività delle nuove tecnologie. Ormai le nuove tecnologie vengono utilizzate per qualsiasi attività e non è una novità dirlo. Ma cosa vuol dire questo? Che molti reati che prima venivano compiuti nella realtà, perdonate, ora vengono compiuti invece nella realtà virtuale. Quindi la diffamazione è sempre più diffamazione online. Lo stalking, sebbene esista assolutamente e continuerà a esistere nella realtà, è sempre più spesso portato verso lo stalking online e così via. Quindi i reati si stanno spostando nel mondo digitale. In aggiunta abbiamo il dannato senso, falso senso di anonimato e di distanza che proviamo quando utilizziamo un dispositivo digitale. Quindi se io uscendo da un ristorante mai o poi mai mi sognerei di dire maledetto te ristoratore che tu possa morire, su TripAdvisor magari non mi è piaciuto il primo, immediatamente vado a scrivere le cose peggiori e quello diventa diffamazione. Allo stesso modo tanti atteggiamenti che teniamo sui social network non li terremo fortunatamente nella vita reale, ma possono dare adito a dei procedimenti penali. Quindi abbiamo assolutamente la necessità di poter acquisire in modalità certa e sicura delle prove online, da una marea di servizi e fonti diverse. Qual è il problema? Come vengono raccolte attualmente le prove? Non parliamo di quello che fanno i consulenti tecnici che fanno questo di mestiere, parliamo della maggior parte degli avvocati o della maggior parte di altri consulenti informatici che vengono chiamati ad aiutare l'avvocato in questa attività. Purtroppo la maggior parte delle volte si procede con la mera stampa o nel caso più avanzato di utilizzo della tecnologia il salvataggio dello screenshot del desktop. Che problema hanno questa tipologia di prove? Banalmente sono facilmente contraffabili, sono soggette a eventuale presenza di malware sul computer utilizzato, ma siamo già in casi più avanzati rispetto al primo, ovvero essere facilmente contraffabili e infine anche l'errore umano. Questo non comporta particolari problemi, fino al momento in cui si arriva in aula e nel frattempo l'originale è stato cancellato. A questo punto la prova che noi abbiamo prodotto malamente viene ovviamente rifiutata perché non ha nessuna caratteristica di conformità all'originale, non possiamo basarci su una semplice stampa per provare l'esistenza di un elemento web passato. Non dico che viene sempre rifiutata perché anche dalla controparte talvolta non c'è la conoscenza di cosa si può obiettare e cosa no, ma con sempre la maggior presenza di consulenti tecnici preparati ci si trova dall'altra parte delle persone pronte che cercano di smontare un'acquisizione fatta in questa maniera. Come procedere quindi? Purtroppo è banale, ma non possiamo procedere come negli altri ambiti della digital forensics. Non abbiamo un hard disk da staccare e da collegare a un ride blocker. L'UFED ancora non fa questo, ma prima o poi quando gli metteranno le gambe e le braccine farà anche questo. E quindi dobbiamo cercare una procedura. La domanda principale è che procedura seguire? Io ribalterei un pochino la questione, più che darvi una serie di step da seguire. Ragioniamo su cosa abbiamo bisogno. Possiamo ragionare su tre tipologie di elementi che compongono un'acquisizione web. Abbiamo un ambiente utilizzato per l'acquisizione. L'utilizzatore, l'utente, colui che compie l'acquisizione. E la connessione tra l'ambiente di acquisizione e il web server, per fare un esempio remoto, dove sono ospitati i contenuti. Noi dobbiamo garantire che tutti e questi tre elementi non presentano delle problematiche. Se riusciamo a garantire che l'ambiente utilizzato è idoneo, che l'operatore non ha compiuto qualcosa di sbagliato e che la connettività tra l'ambiente e l'elemento originale è intonsa, allora abbiamo ottenuto un'acquisizione web consona, fatta bene, che prova l'esistenza di un dato elemento anche nel caso in seguito in cui l'elemento venga cancellato. Come possiamo ottenere questi tre elementi? Qui possiamo entrare un pochino più nel merito di alcune procedure che possono essere consigliate. Non esiste la soluzione ottimale e perfetta al 100% da seguire pedissequamente. Non ci sono normative, non c'è una procedura internazionale accettata, quindi bisogna ragionare sugli elementi precedenti e chiedersi se stiamo rispettando queste richieste. Diciamo che quello che può essere consigliato è di partire da un ambiente standard. Se noi dobbiamo certificare l'ambiente utilizzato per l'acquisizione, la cosa migliore è forse partire da una distribuzione live, magari Linux, magari pensata per l'attività forense. Abbiamo la fortuna di avere in casa Deft e Kane, ma vedo spesso utilizzare ad esempio Kali Linux, che ha più o meno gli stessi strumenti per fare l'acquisizione web, e quindi nulla vieta di utilizzare una vostra distribuzione live a cui siete affezionati. Questo garantisce che l'ambiente su cui partiamo è identico e conforme a un certo standard. Quindi se io avvio Deft live, so che non sono presenti una serie di malware che potrebbe avere invece il computer dello studio dell'avvocato che viene utilizzato per questa attività. e non dobbiamo neanche sforzarci troppo di provare il contrario, perché partiamo da una situazione ben chiara. Già in questa maniera noi cerchiamo di certificare l'ambiente di utilizzo, l'ambiente utilizzato per l'acquisizione. A questo punto noi dobbiamo garantire sia che l'operatore non compie qualche attività volta a modificare gli elementi che vengono scaricati, sia garantire che la connessione di rete tra l'ambiente di acquisizione e internet è reale. Qui sono elencati alcuni dei comandi che possono essere lanciati. Non è assolutamente una lista esaustiva, possono esserci migliorie. Qual è il concetto? Dobbiamo cercare di lavorare sui tre elementi di cui abbiamo detto. Quindi ad esempio sicuramente qualcosa che non può mancare è una registrazione video dell'intera attività, un dump completo del traffico di rete, una serie di chiamate di sistema che può essere un apt-get, che può essere una visita di alcuni siti con l'ora esatta, alcuni siti piuttosto complicati da contraffare, alcuni trace route, alcuni WIS, eccetera, eccetera, eccetera. Qualsiasi software che volete installare potete utilizzarlo, se è già presente su Deft, magari scaricarlo in una seconda versione, ad esempio dovete fare un hash, potete volendo scaricare al volo non solo utilizzare il comando di sistema, ma scaricare un pacchetto che garantisca una seconda possibilità di fare hash per dimostrare che il software utilizzato per calcolare l'hash non è stato modificato ad hoc per dare come risultato un certo hash. un piccolo consiglio nella parte finale che è più operativo che tecnico profiling molto spesso quando viene si cerca di acquisire un singolo elemento web che potrebbe essere il classico commento su facebook offensivo molto spesso ci si limita al semplice commento invece no, cercate di andare oltre cercate di fare un profiling di quella persona che ha postato il commento guardate che altri commenti ha fatto che altre foto ha pubblicato perché questo? perché se voi acquisite semplicemente quel commento avete indubbiamente potete provare che quel commento è esistito anche se viene cancellato ma qual è il problema? una volta che viene aperto un procedimento per cercare di capire chi è l'autore di quel commento come si fa? si procede tramite richiesta a facebook di associazione con indirizzi IP dopo di che indirizzi IP vengono dati al gestore per capire qual era l'utenza telefonica che afferiva quell'indirizzo IP facebook ad esempio per i casi di diffamazione non risponde quindi già la catena si blocca oppure arrivate a una casa un computer che è utilizzato da una famiglia e già lì c'è il dubbio su chi sia stato all'interno della famiglia tramite il profiling invece abbiamo un caso in Italia più di uno ma uno è stato abbastanza emblematico di un giudice che a seguito di una serie di commenti offensivi su facebook ha condannato direttamente la persona corrispondente al nome e cognome dell'account di facebook perché? perché è stata fatta un'attività di profiling quindi si è visto che quell'account non poteva non appartenere a quella persona perché era utilizzato negli anni col nome e il cognome pubblicando sue foto personali è stato utilizzato poco prima per mandare altri commenti ad altri suoi amici poco dopo per altre attività sempre personali quindi non era plausibile o era poco plausibile che in quel mentre fosse stato hackerato o utilizzato da una terza persona e soprattutto l'autore non ha mai ritrattato il commento offensivo non ha detto scusate questo commento è stato pubblicato da un'altra persona quindi il giudice in questione ha saltato tutta la parte di chiamiamola indagine digitale per arrivare all'identità della persona e l'ha associata a quell'account potete essere si può essere d'accordo o non d'accordo con questa sentenza è palese però se state cercando di salvare l'elemento web fate profiling perché potrebbe aiutare di molto l'indagine questa tecnica questa procedura è già stata descritta in un member book ISFA di qualche anno fa è utilizzata e migliorata da vari consulenti tecnici in Italia poi ognuno usa la sua cosa personale c'è un un consulente tecnico molto bravo che preferisce usare una macchina virtuale con Windows istanziata su Amazon c'è chi preferisce utilizzare Deft ma tutti concordano nel cercare di garantire quei tre elementi una volta che quei tre elementi vengono garantiti l'acquisizione è stata fatta a regola d'arte diciamo il più possibile c'è tutta una serie di normativa e giurisprudenza e di paper scientifici su questo argomento esistenti nessuno mette la parola fine nessuno descrive una procedura ben fatta però se voi seguite una procedura vostra ma che rispetta queste caratteristiche potete comunque eccitare di aver seguito tutto quanto previsto da una serie di letterature di letteratura di giurisprudenza di dottrina eccetera 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 qual è una possibile soluzione qual è una possibile soluzione qui ci spostiamo su una soluzione commerciale non è l'unica non è la soluzione migliore del mondo ce ne sono svariate e questa è una un'idea è quella di togliere un elemento da tutto questo se noi prendiamo questi tre elementi e in particolare l'ambiente di acquisizione e la connettività e li spostiamo altrove li togliamo dalla disponibilità dell'utente abbiamo molte meno cose da dimostrare se noi l'interno ambiente di acquisizione lo spostiamo sul cloud lo rendiamo un servizio e l'utente si collega all'ambiente di acquisizione tramite una sua connettività un ambiente di acquisizione in cui lui non ha privilegi amministrativi noi risolviamo tutta una serie di problemi questa soluzione è stata resa un servizio che è venduto bla 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 ma lasciamo stare la parte commerciale e torniamo invece a quali problematiche potrebbero incorrere in questo se noi eseguiamo invece una procedura manuale ovvero quella seguita ad esempio avviando cane cercando facendo un video dell'acquisizione registrando tutto il traffico di rete eccetera eccetera rimangono comunque dei possibili punti aperti che non sono risolti innanzitutto l'ambiente di acquisizione è piuttosto difficile una volta che lavoriamo su DEFT avviato o Kali avviato riuscire a dimostrare che l'ambiente che stiamo utilizzando è veramente la live di Kali che abbiamo scaricato e non è una live modificata precedentemente ci sono dei tentativi in tal senso ma non si è posto il punto finale per dire io potrei lavorare su una Kali opportunamente modificata in modo che tutto il traffico verso internet funzioni normalmente tranne quando vado a cercare un certo profilo di Facebook e mi restituisce un commento modificato in qualcos'altro oppure una funzione di hash tale che mi modifica mi dà un hash diverso in modo che io successivamente posso modificare il file che ho scaricato l'altro punto debole è la connettività la connessione nel senso se io lavoro su un ambiente live che si connette a internet è allo stesso modo difficile dimostrare che non ci sia tra il mio ambiente di acquisizione e il web server che pubblica l'elemento un qualche tipo di dispositivo di rete che altera il contenuto parte dei comandi che vengono lanciati che sono nell'elenco precedente servono appunto per cercare di dimostrare che l'ambiente non è stato modificato o che la connettività è quella è reale non c'è nulla in mezzo che sta modificando l'elemento ma non c'è il 100% di sicurezza in questo momento bene io ho corso per arrivare in tempo quindi siamo anche qualche minuto in anticipo se volete qualche domanda qualcosa se no prego punti che magari derivano da esperienze diverse la prima è dimostrare l'ambiente non è difficile obiettivamente a me non sembra difficile è che tanto che in Cali o quello che vuoi sono tutti ambienti open source quindi se io prendo l'ambiente e installo una VM e insieme alle fonti di prova deposito anche la virtual machine è a disposizione da controparte che ci può fare quello stracacchio che vuole sopra andando a controllare la cosa però ti rispondo a questo o alla fine entrambe? ti faccio la carellata ok la parte di network è vero sono d'accordo potrebbe essere tampered ma non hai mai la possibilità di verificarla totalmente perché non avrai mai una dark fiber che va da te fino al sito web quindi comunque tu lo gestisci e sarà sempre difficile dimostrarlo terzo il fatto di dire elimino l'utente la mia connettività per usare un servizio cloud mi fa venire i brividi perché dico almeno se io ti do una VM con un software open tu puoi dimostrare quello che vuoi o puoi farci le controprove se io prendo tutta la cosa e lo sbatto in cloud e ottengo una black box ho finito anche di poter dimostrare quelle quattro cose che forse riuscivo a fare ok allora l'ultima parte non la commento perché non voglio fare la parte commerciale di vendita era la prima parte invece sul problema del network siamo d'accordo è forse lo scoglio più insormontabile la parte relativa a dimostrare l'ambiente utilizzato è difficile perché indubbiamente sarebbe la cosa migliore dire io ho utilizzato questo se lo riesco a fare in contraddittorio è pacifico utilizzo tutti gli ambienti open source in contraddittorio siamo a posto ma se io lo faccio pre contraddittorio come sempre accade in questi casi come dimostro che quello che io ho consegnato è quello che io ho utilizzato non dico che è impossibile ma devo usare tutta una serie di accorgimenti che sono un po' complicati rispetto al semplice avviare faccio in pacchetto e consegno certo certo certamente benissimo nessun problema no l'una non esclude l'altra volevo chiedere ma nei normali altri ambienti di forensic non necessariamente via nel mondo dell'informatica ci sarà lo stesso identico problema di validare l'ambiente di recupero com'è che fanno allora quello è un caso diverso perché in tutti o almeno nella maggior parte degli altri settori della digital forensics io procedo immediatamente con la cosiddetta copia forense è quello il momento in cui io cristallizzo no 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 intendevo proprio in un mondo diverso dalla digital forensica ad esempio entro nella casa devo acquisire le impronte per terra devo acquisire sulla finestra dico per dire come faccio a validare l'ambiente essere il giudice come fa essere sicuro che il tecnico abbia fatto tutto correttamente si fida sì in parte si fida ma in parte quelle attività vengono svolte dalla polizia giudiziaria e questo tutto questo non è assolutamente un problema per la polizia giudiziaria perché la polizia giudiziaria ha un potere enorme in Italia ovvero di dire quello che scrive la polizia giudiziaria è vero fino a querela di falso quindi un qualsiasi investigatore può semplicemente dire ho visto il profilo di facebook corrispondeva c'era questo messaggio diffamatorio faccio la stampa quello vale più di qualsiasi altra cosa fatta tecnicamente perché è un potere legale teoricamente potrebbero farlo anche gli avvocati da qualche anno perché hanno delle indagini difensive che con dei poteri veramente forti però è molto pericoloso e quindi spesso gli avvocati non si spingono così in là soprattutto in parti che non conoscono esattamente perché rischiano molto potrebbe essere un'attività fatta da un notaio invece i notai si rifiutano di farla quindi risolto almeno la maggior parte so di alcuni che l'hanno fatta ma la maggior parte si rifiutano allora quello che mi è stato detto dal notaio è che questa attività produrrebbe una prova in questo modo il notaio andrebbe a sostituirsi al giudice che è l'unico elemento che può decidere cosa è prova e no e quindi ci sarebbe un piccolo scontro di competenze e quindi preferiscono non farlo questo è quello che mi è stato detto non sono un notaio quindi mi limito a riferire è basato sulla sua firma quindi tutto il procedimento va sostanzialmente in vacca quindi da un punto di vista diciamo legale tu hai sedere parato perché quello che fa fede è la firma del notaio e quindi nessuno cerca di andare contro un notaio che ci fa però dal punto di vista del procedimento tu potresti fregare bellamente il notaio tecnico e però c'è sulla sua firma quello che tendenzialmente loro non lo fanno perché non sanno trattare questa cosa in maniera diversa da un pezzo di carta il loro procedimento di dire validiamo la cosa è prendo la pagina web la stampo e ci metto la firma siccome io sono notaio la mia firma va tutta proprio in maniera paghi la percetta premetto che non sono un esperto forense e mi occupo più di privacy digitale qualche mese fa ho sul sito internet trovato un articolo che parlava di una corte federale degli Stati Uniti che ha ritenuto come prova accettabile l'acquisizione da The Wayback Archive delle pagine internet salvate che non esistono più di un sito che era sparito che c'era un commento diffamante nel quale c'era un commento diffamante ha ritenuto legale il fatto che un'organizzazione non profit controllata non si sa da chi non controllata da nessuno possa acquisita come prova ha scatenato un dibattito tra me e qualche mio amico volevo sapere la tua opinione beh allora io stesso in alcuni in alcuni procedimenti abbiamo utilizzato The Web Archive per cercare di dimostrare il nostro punto il problema è che si cerca di usare ogni strumento disponibile quindi poi sta il giudice a decidere se è una fonte attendibile o meno dipende anche dall'entità del procedimento su cosa stiamo parlando quindi non ho presente esattamente qual era il reato contestato e quindi potrebbe essere effettivamente particolare per chi si ritrova indagato far sì che le prove siano state realizzate anni prima da una struttura automatizzata su cui magari non c'è un controllo volto appunto a dimostrare che non c'è un intervento malevolo quindi sì diciamo che se fossi dipende da che parte sono e cerco purtroppo è il nostro lavoro però su certe cose sono opinioni su certe cose sono opinioni su certe cose c'è il punto fisso in cui qualsiasi sia la nostra parte siamo realistici e su una cosa del genere ci sono opinioni quindi si può dibattere come si dibatte tra di noi fuori fuori dall'ambiente giuridico grazie ricordiamoci che in Italia il giudice può assumere a prova o rifiutare qualsiasi tipo di prova il giudice può prendere la pagina stampata e decidere che è la verità assoluta il giudice può prendere la pistola fumante con le tue impronte digitali e decidere che non è una prova il potere ultimo di qualsiasi cosa è sta al giudice poi ovviamente ne deve rispondere entro certi limiti però il potere ultimo è del giudice in Italia esistono già delle procedure che si possono scrivere in un programma in un software in una macchina per cui possa verificare delle prove e già dire di suo questa prova è corretta oppure no in che senso nel senso che vengono raccolte delle prove possono essere fatte da una persona o da una macchina utilizzando una procedura del genere quindi automatizzando ad esempio in deft può esserci al di là della procedura per prenderle se c'è un modo di creare invece un'altra macchina un software un sistema automatizzato che possa verificarle in un secondo momento se esiste già un sistema dove per esempio io butto le prove e la macchina dice sì questa prova è corretta no è l'attività di verificare un'eventuale prova di un'acquisizione web che è stata magari modificata è piuttosto complicata e per ora che io sappia necessita di un intervento umano caricare il dump del traffico di rete andare a verificare tutta una serie di cose per cercare di capire se c'è stato un tampering non mi viene in mente una procedura automatica però se qualcuno in aula sa se c'è benvenga io conosco una cosa ma non so se è ancora utilizzata si chiama TLS Notary che va a firmare i dati fa un salvataggio della pagina la vai a firmare con il certificato del sito e quindi almeno però non lo conosco bene lo inserirei in ogni caso lo inserirei all'interno del tentativo di certificare cioè come tool all'interno più che come strumento risolutivo se fa quello che penso che faccia prego un esempio banale io avevo un caso in cui c'erano due soci che hanno litigato e hanno messo in piedi quelli che sono andati in un'altra società quando quelli della prima società andavano sul sito della seconda c'era una pagina in cui venivano riempiti di insulti e quindi hanno fatto denuncia però quando tu andavi ad acquisire da una macchina terza che non veniva dalla prima società era un sito web perfetto quindi che cosa succede che in quel momento lì puoi certificare quello che vuoi ma il sito web è che ti risponde a seconda di chi cacchio sei quindi la contraffazione di una prova web può essere fatta a talmente tanti livelli che automatizzare la cosa non ha il minimo senso perché potrebbe essere addirittura il sito web stesso che fa il bastardo già dall'inizio della catena quindi è veramente difficile riuscire a dire si è successo questo puoi avere un tool che dice guarda da quando ho cominciato con questo IP in questo momento sono successe queste cose ti do il video ti do il dump che poi per esempio su Facebook non serve un tubo perché è tanto tutto cifrato però almeno tu gli metti davanti una serie una pila di elementi che dice ok è plausibile che sia così però dico poi ti trovi delle situazioni come quella che ho trovato io che era comicissima però ti fa capire che il web ti risponde diversamente a seconda di chi tu sei non ci puoi fare mica niente dipende è diffamazione se vede più di una persona se vede il contenuto quindi anche se la diffamazione non era verso la dita ma magari era verso uno dei dipendenti di una delle due dita è comunque diffamazione anche se non è pubblica su tutto il mondo come se io scrivessi all'interno di questa mettiamo che sia una casa una scritta diffamatoria all'interno della casa se le persone che entrano comunque la vedono e non è piacevole prego qual è invece la procedura tecnica per acquisire le prove a grandi linee la procedura tecnica per acquisire un sito e certificare che è più o meno quella che abbiamo che abbiamo descritto quindi partire da una distribuzione da una distribuzione live che sia sì ecco qui avviare avviare un software di registrazione del desktop la cosa ancora migliore sarebbe addirittura una seconda videoregistrazione analogica che punta al desktop qui praticamente è un'attività per paranoici più qualsiasi elemento che possa aiutare che vi viene in mente fatelo perché è meglio averne 10 piuttosto che 5 ad esempio in questo caso viene eseguito il dump completo con Wireshark viene avviata la connessione di rete dopo viene avviato Firefox viene eseguita un elenco dell'hardware del sistema della configurazione di rete un root ARP trace root ha un paio di siti un apt-get update alcuni siti di ora esatta l'NTPQ trace root o is del sito profiling e a questo punto normale acquisizione di screenshot o salvataggio in HTML eccetera eccetera e alla fine hash di tutto e marca temporale sull'hash calcolato più un paio di altre cose che non ci sono adesso vedo probabilmente è stata fatta per rientrare nella slide comunque più ce n'è meglio se dovete installare un software appunto magari lo ottenete da apt-get oppure visitate il sito eccetera eccetera possibilmente utilizzare siti proxy all'interno nel modo da dimostrare che se magari un semplice sito web non è facebook potete accedere sia direttamente sia passando su un proxy web e andare al sito attraverso il proxy web eccetera eccetera qualsiasi attività vi venga in mente per che possa se voi foste dalla controparte eliminare un dubbio fatela no non solo no perché è appena stata appena stata realizzata esistono casi in cui la profilazione ha permesso di smontare che il fatto detto del reato era non colpa dell'utente allora personalmente successi a noi no ci sono casi in cui non si è riuscita ad arrivare alla persona fisica nonostante se avessero numerose informazioni digitali diciamo a un paio di mi vengono in mente invece un paio di casi che sono capitati a un paio di aziende note italiane che fanno sempre digital forensics in cui invece sì che tramite profiling hanno dimostrato che era un utente creato appositamente per per fare per fare quell'attività per cercare di incastrare un'altra persona bene allora io vi ringrazio tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.